La corsa ai nuovi posti letto covid in Toscana non si ferma. L'obiettivo non è solo quello di farsi trovare pronti nel caso di un malaugurato e al momento non previsto un nuovo aumento dei casi, ma soprattutto quello di migliorare quegli indicatori che una settimana fa ci hanno fatto retrocedere in zona rossa. Ad esempio il dato sull'occupazione dei posti di terapia intensiva che al momento ci vede molto distanti dalla soglia di sicurezza fissata dal Ministero della Salute al 30%. Secondo la Genas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la Toscana occupa il 47% dei posti disponibili, uno sforamento del 17% che è molto più alto anche di quello della media nazionale che è pari al 42%. Per quanto riguarda invece l'occupazione dei posti letto covid non in rianimazione, la Toscana arriva al 41% ed è appena sopra il limite del 40% fissato dal Ministero, in questo caso però la media italiana è molto più alta di quella toscana, 51%. E poi c'è il dato del tracciamento dei contatti stretti dei positivi di cui la Toscana è pronta a fare vanto. Il governatore Gianni ha annunciato che entro il fine settimana la capacità di risalire ai contatti stretti arriverà al 100%. Un altro tassello della strategia regionale è quello dei tamponi fai da te da utilizzare negli ospedali in contesti sorvegliati, magari scuole o aziende in cui sia presente un medico del lavoro che può trasferire dati al portale regionale. Lo strumento per realizzarlo è stato individuato in Uffa, il tampone messo a punto dalla professoressa Chiara Zari al Meyer e già sperimentato nei dipendenti dell'ospedale pediatrico. La risposta sull'affidabilità si è rivelata alta, solo il 2% di falsi negativi e il 10% di falsi positivi che però vengono neutralizzati col fatto che ogni positivo viene poi rielaborato con la tecnica del tampone classico. Grazie a tutti.